è venuto benissimo si viene fuori la manta c'è da ridere c'è una faccia bruttissima hai visto quello lì? sull'interno che ditte lì? ma perché vai dietro? è quello squalino più il lucino quando passa qua davanti lo squalettino con il più piccolino quando ho visto avere un sale è un po' di sfocattina ma va bene